Il Presidente ci ha indicato questo obiettivo, l'obiettivo di essere competitivi in MotoGP, significa essere competitivi con i maggiori costruttori di moto nel campionato dove impiegano le maggiori risorse e le maggiori capacità, significa testimoniare il fatto che Aprilia è leader tecnologico e sportivo nel mondo della moto. È un messaggio fondamentale legato al concetto del B-Racer, è qualcosa che dà l'immagine vera di Aprilia e legato a questo genererà una crescita di know-how che si vedrà anche sul prodotto di serie. Grazie